Ciao, sono Marco Sarafini, ho vinto all'audizione di Fulmon, adesso faccio parte di questo cast e cominceremo le prove di ballo proprio oggi, sono emozionatissimo, non vedo l'ora che che esordire a teatro, a Sistina tra l'altro, tutti mi dicono che sia un teatro importante ma che vengo da fuori, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ho ancora in coscienza di queste cose e quindi rock and roll forever Ciao a tutti, sono Simone Lagrasta, ex operaio e catapultato in questo splendido mondo che è lo spettacolo non ci posso ancora credere perché pensavo che queste cose accadessero solo nei sogni e finalmente è successo che il mio sogno è cominciato, spero di superare e di non tornare più in quel baratro della disoccupazione perché c'ho tanta paura di tornare disoccupato detto questo, come ho detto prima, il teatro Sistina è una meta di molti e sono veramente onorato di poter partire anch'io ma specialmente di poter tornare anche a far vedere questa cosa qua nella mia città natale che è in Torino per cui tanta fortuna e crociamole via